La data di ieri è una data che passa alla storia della Sicilia ed è una delle più importanti leggi dopo quella dell'autonomia siciliana. Il giorno dopo l'approvazione il presidente della regione Rosario Crocetta non nasconde il suo entusiasmo per una riforma arrivata in porto dopo un anno di colloqui, revisioni e un mese intenso di lavori d'aula. Affiancato dall'assessore alle autonomie locali Valenti e dal presidente della commissione affari istituzionali a Lars Cracolici, il governatore commenta la riforma che introduce nuovi enti intermedi al posto delle province secondo Crocetta arrivate ormai al capolinia. Si restituisce ai cittadini, alle città attraverso i loro sintesi la rappresentanza negli enti intermedi per fare programmazione comune, atti di indirizzo e risolvere problemi concreti invece di avere enti che sostanzialmente ormai erano ridotte solo a dare contributi per le feste patronali. Però mettiamo in campo una delle più grandi riforme della storia siciliana che fanno la storia della riforma delle istituzioni. Alle critiche di Berlusconi sull'immobilismo della regione siciliana, arrivate domenica scorsa durante il meeting dei club Forza Silvio, Crocetta risponde così. Il mio immobile è lui che ha proposto l'abolizione delle province vent'anni fa, ha fatto nel frattempo dieci anni di governo diretto da lui e non ha manco fatto una riforma, neppure quella della provincia che qua i suoi uomini hanno cercato di contrastare. Dopo la riforma delle province avvieremo una discussione utile alla ricomposizione del governo, aveva annunciato Crocetta. Le richieste di rimpasti all'interno della giunta regionale vengono avanzate da mesi dagli alleati e la questione sembra ormai inevitabile anche alla luce delle forze politiche che hanno appoggiato la riforma in aula. Per il momento però il governatore preferisce non affrontare l'argomento. Io intanto mi voglio godere insieme all'assessore Valenti, all'onorevole Cacolici e ai deputati presenti questa bella giornata, delle cose si parla quando se ne deve parlare. Oggi voglio parlare di province e di riforme. Grazie a tutti.